Allora, io mi sono ritrovato nella discesa verso Gressonei, nel volone di Ro, a cominciare a sentire un formicolio a una caviglia e per esperienza sapevo, perché mi era già successo qualche anno prima, che poteva essere la visaglia di un'infiammazione al tibiale, per cui sono arrivato alla base di, per fortuna c'era la base di vita di Gressonei che mi aspettava, sono arrivato lì e sono andato dal medico di turno, diciamo che per fortuna è Patacchini che è molto bravo, per trovare che succede questo, non so se in effetti si sta infiammando il tibiale, cosa possiamo fare? E lui mi ha sistemato, mi ha messo ettaggi, cerotti vari e da l'era in avanti ha continuato, sono continuato ad andare bene, può essere che non avevo niente, era soltanto una sensazione, può essere che invece il medico Patacchini mi abbia sistemato, come si dice, altri grossi problemi a parte i classici droni che mi vengono sempre al torre, ai calcani, non ho avuto. Grazie Grazie Grazie